Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale. Oggi vediamo come smontare la plafoniera della lancia Y843. Iniziamo. All'interno della plafoniera ci sono due linguette di metallo, una posizionata qui e l'altra nella parte opposta. Per andare a togliere il primo pezzo di plafoniera dobbiamo andare a sforzare leggermente in alto e andiamo con la leva di plastica in questo modo a sganciare la linguetta. Prima da una parte e poi dall'altra. Ecco qua. Come prima cosa andiamo a sganciare i tasti del tetto elettrico. Qui c'è uno spinotto. Basterà tirarlo, premere e tirare e verrà via. Con un cacciavite Torx da 30 andiamo a svitare le due viti. Una e due. Ok. Adesso basterà altro che tirare e sganciare. Dovremo andare a sganciare anche questo connettore qui. Quindi lo prendiamo e lo tiriamo. Così. e adesso andiamo al banco. Eccoci arrivati sul banco. Ci sono due lampadine qui ai lati e una centrale. Per quelle ai lati basterà ruotare in questo modo ed estrarla. Così. Mentre per quella centrale si dovrà premere la linguetta, questa linguetta, ed estrarre la lampadina. Una volta fatto questo si può rimontare il tutto. Rieccoci in auto ragazzi. Adesso andiamo a rimettere il cablaggio della plafoniera in questo modo. Andiamo a agganciarlo. Andiamo ad agganciare le due linguette di plastica che si trono qui. e con il cacciavite torx da 30 andiamo a riavvitare. Una. Ok. E anche l'altra. Eccoci qua. Perfetto. Adesso andiamo a montare la seconda parte della plafoniera. Quindi prendiamo il cablaggio del tetto elettrico e lo andiamo a posizionare. Fatto ciò andiamo a agganciare. Quindi in questo modo qui basta premere. Ed eccoci che è fissata. Bene ragazzi spero che questo breve video vi sia stato utile. Io vi ringrazio. Vi invito a mettermi un piace ed iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati. A presto e con nuovi video. Ciao. Grazie.